Gara tra i ragazzi dei Farias, io stramuerti tuoi, il parziale ce lo dirà il direttore di gara Alessandro Savoia Per? Io stramuerti tuoi, c'era stato adesso uno scontro tra un gol di Allocca di destro Addirittura? Non sa neanche se ha visto le scale Allocca non sa neanche cosa è il destro, ha segnato, davvero succede di tutto qui al pianeta calcio Va bene qui, è laterale, grazie Guardiamo l'uomo, uno degli uomini più belli di questo torneo con la sua Vesparella bianca Guardate che piede! Soprattutto con la sua maglietta a mare delle mani Sempre, un uomo, un mito A bordocampo lo staff, un posto dal mister oramai Renato Miraglia Catechizza un po' il suo compagno di squadra Stiamo però la partita a Lombardi E' anche un po' il presidente comunque Mister e presidente oramai Miraglia Un po' tutto No, ho cavato di buoni acquisti Chi ha ventre che... All'occhio, occhio al break, sbaglia il tocco, chiude scala Che poi però continua a correre In avanti, occhio! Salva tutto, il porterone Di Faria, se li hanno rischiato Arriva su un palone impossibile Buon acquisto Non si trova E rischia un po' i ragazzi di Faria Si infatti alloca Vera Prea Tira al volo! Ancora su... Barretta Ancora Barretta! E ce la fa, e ce la fa Indoviniamo il nome e indoviniamo anche il gol Disperato scala Ancora anche se vengono la maglietta di Barretta Ma non si può prendere il corso sì, dai! E' una cosa si gira Buatengue Eccolo qua 3 a 0, ultime battute di gara Ovviamente un po' il colore d'aveto ma attenzione Attenzione E' proprio lui Giampiero giunta lì a bordo campo Ci prova questo tiro cross morbido Palla che va sul fondo